E' quindi una passeggiata, una semplice così via di istruzione, un'occasione nella quale le imprese che ci accompagneremo, che ci accompagneranno e che accompagneremo avranno occasioni di lavoro, di incontro, di tubi, di attività, di reciprocità e di conoscenza, di predisposizione e presentazione sul mercato delle proprie capacità e attività. Peraltro nel padiglione in Italia sapete che l'aspetto della ristorazione e della cucina viene rappresentato da un'alta gloria a Bonsese, come lo chef Nicolumino, nel quale la regione Abruzzo ha, da più recente, formalizzato e sta formalizzando una collaborazione molto importante per costituire un'accademia che possa produrre passi in avanti importanti nella ristorazione collettiva di qualità, per eliminare quella, è sinonimo che vede nella ristorazione collettiva, un pasto di disfortuna, se non addirittura dare un pasto appunto di pessima qualità. Dobbiamo lavorare su questo, è un impegno alla profonda malezza sociale e culturale che noi stiamo sostenendo grazie anche alla intelligenza, all'attività, alla maestria di questo chef. Non voglio aggiungere altro, chiedo scusa a tutti i interrogatori e agli ospiti, se ho appena terminato questo mio breve intervento di saluti di presentazione, mi scollegherò perché devo raggiungere dalla sede romana della regione Abruzzo, alla Camera dei Deputati, sta iniziando la chiama e credo di essere chiamato a questo dovere anche come per conto di tutti gli abruzzesi.